Anche lì, ieri sono subito partite un florileggio di polemiche, qualche nobile politico che si è messo ad insultare il governo attuale, che oltretutto eventualmente avrebbe gestito la situazione negli ultimi sei mesi quando era gestita da cinque anni, ma al di là di quello poi si è dimostrato che era vero e contrario. Adesso valutiamo quali sono le competenze che ci verranno trasmesse prima di poter fare una considerazione o una valutazione finale. Grazie.